Abbia pazienza Telese ma non se la cava così, perché mi permetta di dire che le cose che affermo da sei, da non so quante settimane, forse da alcuni mesi, finalmente ora che ve le ha dette Fauci magari crederete che sono quelle reali e non altre storie. Ricordo inoltre che Fauci è un uomo dell'establishment, l'unica cosa tra tutte è quella che ha detto, sulla quale non mi sento di essere d'accordo, Tony Fauci è una persona che stimo molto, è davvero uno scienziato, però quando dice che non è colpa dei politici, mi perdoni, dice una cosa che è colpa dei diversi atteggiamenti e delle diverse culture dei diversi stati. Se la rogenessimo in questi termini, ma dove andiamo a finire? Andiamo a dare sulle spalle della popolazione la responsabilità totale della lotta contro l'epidemia, la pandemia, ma le pare una cosa logica? Ma le pare una cosa che sta in piedi? Telese, non sta in piedi. Come non sta in piedi ed è inaccettabile, ve lo dico, questo vostro tentativo più volte con Fauci di dire, ah la contrapposizione tra catastrofisti e buonisti, perdonatemi, non si può sentire, perché non è così. E' la contrapposizione che qualcuno ha creato, non certo volontariamente io, perché qualcuno fa affermazioni sul fatto che il virus non esiste più. Il virus esiste in tutto il mondo, se ne frega dell'estate, fa una serie di azioni e ha una serie di comportamenti che sono quelli che vediamo. Ne abbiamo ancora moltissimo in Italia. Non voglio esprimere pareri da cittadino, voglio cercare di rimanere... Però, professor Galli, sono alcuni... Scusi, no, scusi, sono alcuni suoi colleghi però... Ha cercato di tutto per far dire a Fauci quello che alla fine non ha detto. Ha detto esattamente quello che doveva dire, cioè quello che deriva dall'evidenza scientifica e questo mi pare che coincida perfettamente con la posizione che i veri addetti ai lavori, veri è un termine sbagliato, faccio ammenda. Comunque, le persone che hanno su questa cosa un atteggiamento prudente che deriva anche da una base robusta di dati, hanno sempre cercato di mantenere ed assumere tenendo la barra dritta da diverso tempo. Guardi, noi non abbiamo provato però... Sono molto contento della sua passione civile e scientifica, però non abbiamo provato proprio a far dire... No, scusi, 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 noi non abbiamo provato proprio a far dire nulla a Fauci, abbiamo fatto le domande che qualunque giornalista di media preparazione fa a uno scienziato. E voglio dirle che lei forse dice, Fauci dice quello che io dico da mesi, questo è un tentativo di appropriazione legittimo.